Va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dal pastore Stefano D'Amore. Ricordati della parola data al tuo servo, con la quale mi hai fatto sperare. Questo mi è di conforto nell'afflizione che la tua parola mi fa vivere. Così scrive il salmista. Cari sorelle, cari fratelli, cari amiche, cari amici, ben trovati per questo momento di culto. Un momento nel quale vogliamo fare spazio nella nostra vita, nel nostro cuore, ad una parola che porta vita. E allora ci raccogliamo nel nome di colui che vince il male con il bene, che porta nuova vita nelle nostre morti e che porta umanità nella nostra disumanità. Colui che è padre, figlio e spirito santo. Amen. Vogliamo ascoltare insieme alcuni versetti del Salmo 36. O Signore, la tua benevolenza giunge fino al cielo, la tua fedeltà fino alle nuvole. La tua giustizia si innalza come le montagne più alte. I tuoi giudizi sono profondi come il grande oceano. O Signore, tu soccorri uomini e bestie. O Dio, com'è preziosa la tua benevolenza. Perciò i figli degli uomini cercano rifugio all'ombra delle tue ali. Si saziano dell'abbondanza della tua casa e tu li disseti al torrente delle tue delizie, poiché in te è la fonte della vita e per la tua luce noi vediamo la luce. Vi invito a pregare con me. Signore, ti ringraziamo perché anche oggi ci riunisci da luoghi lontani e in tempi diversi e ci permetti di ritrovarci insieme alla tua presenza. Grazie perché con te non c'è nulla di scontato. Tu ci vuoi liberare da ogni senso di abitudine e ci apri alla novità fresca della tua presenza. Ci trovi anche oggi con il bagaglio delle nostre esperienze, non tutte positive. Nel nostro cuore ci sono anche ansie, preoccupazioni, paure e noi veniamo a te perché tu sei venuto a noi e lo hai fatto non per spaventarci con il tuo potere ma per farci scoprire la tua bellezza. Fa che proprio questo ci aiuti a guardare non alle nostre ansie, le nostre paure, ma ai tuoi doni, alle tue promesse, alle tue vie. Guida tu questo momento di culto. Con te e con la tua guida noi siamo capaci di ascoltare, di parlare, di offrire, di donare, di portare la tua parola e di agire con determinazione guidati dalla tua pace e dalla tua giustizia. Amen. Andiamo, figlio di giugno, come gli angeli a vedere, per esaltare il suo cuore che ci guida verso il Cielo. Siamo stenduti qua giù, una paura c'è stata, una luce non è questa pace a mano, ma tu sei la vita, la verità, la vita in santità. Siamo stenduti qua giù, una paura c'è stata, una luce non è questa pace a mano, ma tu sei la vita, la vita in santità. La nostra vita in santità. La nostra vita in santità, come la giù, una gente in santità. La nostra vita in santità, come la giù, una gente in santità. La nostra vita in santità, come la giù, una gente in santità. La nostra vita in santità. Ascoltiamo ora il testo biblico proposto per oggi che si trova nel libro di Giona, capitolo 3. La parola del Signore fu rivolta a Giona per la seconda volta in questi termini. Giona partì e andò a Ninive, come il Signore aveva ordinato. Ninive era una città grande davanti a Dio. Ci volevano tre giorni di cammino per attraversarla. Giona cominciò a inoltrarsi nella città per una giornata di cammino e proclamava «Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta». I Niniviti credettero a Dio, proclamarono un digiuno e si vestirono di sacchi, tutti dal più grande al più piccolo. E poiché la notizia era giunta al re di Ninive, questi si alzò dal trono, si tolse il mantello di dosso, si coprì di sacco e si mise seduto sulla cenere. Poi, per decreto del re e dei suoi grandi, fu reso noto in Ninive un ordine di questo tipo. Uomini animali, armenti e greggi, non assaggino nulla, non vadano al pascolo e non bevano acqua. Uomini animali si coprono di sacco e gridino a Dio con forza. Ognuno si converta dalla sua malvagità e dalla violenza compiuta dalle sue mani. Forse Dio si ricrederà, si pentirà e spegnerà la sua ira ardente, così che noi non speriamo. Dio vide ciò che facevano, vide che si convertivano dalla loro malvagità e si pentì del male che aveva minacciato di far loro e non lo fece. Commentare solo alcuni versetti del Libro di Giona non è semplice e forse non è neanche corretto. Perché è un libro così breve, così concentrato, che tra l'altro è quasi una favola quasi. Ricca di immagini, di colpi di scena, di allusioni, di spunti di riflessione ed è abilmente confezionato. Nel primo capitolo Giona viene chiamato da Dio. «Alzati, va a Ninive, la grande città, e proclama contro di lei che la loro malvagità è salita fino a me». Ma Giona fugge, sappiamo bene, va nella direzione opposta, si imbarca verso Tarsis. Si scatena poi una grande tempesta, i marinai hanno paura, pregano i loro dei, tirano a sorte e si scopre che è stato Giona ad attirare dietro di sé l'ira del suo Dio. Così viene gettato in mare perché tutto quanto si calmi. Nel secondo capitolo il Signore fa venire un grosso pesce che inghiotte Giona, che ci rimarrà dentro per tre giorni, e da dentro il ventre del pesce Giona rivolge a Dio un salmo. «Dalla profondità del soggiorno dei morti ho gridato e tu hai udito la mia voce», sarà una delle frasi. E finalmente il pesce vomita Giona sulla terraferma. Il terzo capitolo è quello che abbiamo appena letto, ascoltato, e l'inizio un po' ci sorprende perché è uguale, identico quasi, al primo capitolo. L'ultimo, il quarto capitolo, è un dialogo tra Dio e Giona, in cui Giona si irrita con Dio perché non ha distrutto Ninive e in sostanza gli dice «Ecco, io lo sapevo, io non volevo andare a Ninive perché lo so che tu sei un Dio misericordioso e non avresti distrutto la città e mi hai fatto fare in sostanza una figuraccia». E il libro si conclude con una domanda di Dio. «Tu hai avuto pietà per la pianta, quel famoso ricino, che è cresciuta ed è seccata in una notte e io non dovrei avere pietà di Ninive, la grande città?» Ecco, tra le altre cose il libro di Giona è anche un bel esempio di racconto ironico. Un'ironia forse un po' diversa da quella che conosciamo noi oggi, ma forse neanche così tanto. Facciamo solo qualche esempio. Giona si rifiuta di andare a Ninive perché è una città pagana e per fuggire finisce in una nave piena di marinai, tutti pagani. Stando al testo originale e non alla traduzione, mentre è sulla nave Dio gli chiede di alzarsi e lui invece scende, scende in continuazione, a Iafo, nella barca, in fondo alla nave e poi nel sonno più profondo. E poi l'espulsione di Giona, l'espulsione dal grosso pesce. Per uscire aveva due possibilità e Giona viene vomitato dal pesce. Perché il vomito? Perché Giona è indigesto. E questo lo vedremo meglio tra poco. Dicevamo che il nostro testo comincia con la seconda chiamata di Giona, uguale a quella del primo capitolo. Finora Giona è fuggito da quella chiamata. Giona si è tappato le orecchie, potremmo dire. Giona ha fatto finta di niente, ha finto di non aver sentito. E chi lo biasimerebbe? Vacci tu a Ninive a dire quelle cose che Dio ha chiesto di dire. E allora qui ci imbattiamo subito in un problema di comunicazione. Quanto è difficile a volte comunicare con Dio? Quanto è difficile ascoltare la sua voce? Quante volte fuggiamo da quella voce? Vorremmo farlo. Perché fermarsi davvero ad ascoltarla potrebbe anche stravolgere i nostri programmi e magari anche le nostre idee. E allora no, meglio infilare Dio nei nostri modelli piuttosto che lasciarci noi modellare. La sensazione che abbiamo è che Giona abbia fatto proprio quello. Cioè ha accorciato, ha ristretto tutto ciò che Dio gli aveva detto di dire a Ninive. Lo ha ristretto, ridotto in una sola frase. In 40 giorni Ninive sarà distrutta. Non parla di nient'altro, non annuncia perdono, non dà nuove seconde chance, nuove possibilità. Solo la distruzione. E allora restiamo con tante domande. Cioè sarà veramente quello il messaggio che Dio gli ha detto di pronunciare? Forse Giona ha pensato lui di poterlo compattare in quella frase. Quanto di sé ha messo Giona in questo messaggio? Forse era la sua idea di quello che doveva succedere a Ninive. O forse di tutto quello che Dio gli ha detto, quella frase è l'unica che gli è rimasta in testa. Noi questo non lo sappiamo, ma quello che è certo, come ha detto qualcuno, è che siamo davanti al sermone più breve e più brutto che sia mai stato predicato. E la cosa per noi più assurda, e ritorna l'ironia del testo, è che nonostante tutto ciò ha avuto un grandissimo risultato. La scena è quasi comica. È come se tu domani andassi in giro per il centro storico della tua città, del tuo paese, a dire ancora 40 giorni e qui tutto sarà distrutto e tutti ti ascoltassero. E tutti cominciassero a digiunare, sindaco in testa, a cambiare le proprie abitudini, a pentirsi. È utile forse qui ricordare che la traduzione non è oro colato. Cioè quel Ninive sarà distrutta potrebbe essere anche un Ninive si distruggerà. Come a dire che, continuando come sta facendo, si autoeliminerà. Quindi i suoi abitanti, in questo senso, sarebbero gli attori della propria distruzione, non tanto Dio. Oppure, ancora più probabile, potrebbe tradursi, Ninive sarà sovvertita, sarà rivoltata. Ninive quindi sarà una nuova città. Ci sarà un cambiamento profondo, non una distruzione. E quindi gli abitanti sarebbero gli attori della propria conversione. In ogni caso, quello che colpisce è appunto la loro risposta. Ci credono subito. Vuol dire che la gente è così credulona? No, non credo. Quello su cui punta il nostro brano non è la facilità di convincere la gente, ma la potenza della parola che Giona sta portando. La parola è potente. Ma lo è quando viene detta. Lo è se viene detta. Finora Giona non ha detto a Ninive la parola di Dio. E ancora ritorna il problema della comunicazione. Giona non ha riportato finora la parola di Dio. Ma attenzione, ci dice questo racconto, la parola non detta non è inesistente. La parola che noi non diciamo continua ad esistere, però può perdere la sua efficacia. Giona finora con il suo silenzio e il suo rifiuto ha impedito a Dio di comunicare con Ninive. Ha impedito alla città di cambiare, di essere trasformata. E perché Giona è stato zitto? Perché non ha fiducia in Dio. O meglio, perché la sua immagine di Dio contraddiceva quella che Dio gli stava comunicando. e Giona ha voluto affidarsi alla propria conoscenza di Dio invece che alla sua parola. E Giona ha trattenuto la parola di Dio nella sua pancia, nelle sue viscere. Non l'ha espressa, non l'ha comunicata, non l'ha tirata fuori. Chissà che forse tutto questo non capiti, in fondo, anche a noi, anche alle nostre chiese. bloccare, trangugiare la parola, trattenerla perché a volte ci sembra inattuale, oppure troppo forte, o poco diplomatica. A volte la troviamo quasi indigesta, quella parola, e allora la tratteniamo dentro e diventiamo noi gli indigesti. e non portiamo i messaggi di cambiamento, di denuncia, di seconde possibilità. Ed ecco che torna ancora una volta l'ironia. C'è un'altra pancia, ci sono altre viscere, quelle del grosso pesce, che rappresentano bene questo atteggiamento e che trattengono chi ha osato inghiottire la profezia. Ma il nostro racconto ci libera, ci libera da tutto questo, e ci dice che non siamo noi a governare la parola di Dio. La profezia autentica, anche se inghiottita, non può restare prigioniera. Ed ecco che il pesce vomita, Giona. Come il grosso pesce può aprire la bocca, tirare fuori ciò che ha trattenuto, ora anche Giona può predicare una parola che finora aveva bloccato dentro di sé. Inghiottire la parola di Dio per farla quasi morire dentro di noi. Ecco, forse la parola, la vicenda di Giona non è poi così lontana dal nostro vissuto personale e dal nostro vissuto comunitario. Forse anche noi non crediamo possibile che avvenga spesso, qualche volta, un ribaltamento. Forse la bontà, la misericordia di Dio che si pente del male che aveva minacciato e noi la vediamo come un suo disinteresse o, peggio, come un suo fallimento. Fratelli e sorelle, è quanto ci assomiglia Giona con la sua fuga. La fuga del profeta davanti a Dio è fisicamente una discesa costante. Ma il percorso di risalita, sì, sarà difficile, però ci sarà. E certo, vomitare provoca qualche mal di pancia. Non è qualcosa che avviene senza fitte. Così una chiesa che risponde alla chiamata di predicare la parola di Dio non può pensare che sia tutto facile, che sia tutto automatico, che non comporti qualche mal di pancia. La parola passa dentro e trasforma anche chi la pronuncia. Lasciamola quindi agire quella parola con fiducia e potremmo anche noi come Giona portare un messaggio semplice ma potente. Il peggiore peccatore può sovvertire la peggiore situazione se davvero si pente e cambia. E Dio stesso può cambiare con lei o con lui. Amen. O mio Signore io voglio a te la bella e poi mi guida pure mio carne e colpa mi dà no la luce mia sei tu e mi ha fanni domini a me sarà amici mi mi è io io mio signore l'amica mia sarà Ci raccogliamo in preghiera. Signore, dacci umiltà e desiderio di ascoltare la voce di chi ci è vicino e di chi ci è lontano. Dacci forza e coraggio per usare la nostra voce, con gioia e con giustizia. Dacci capacità di dare voce ai dolori nostri e degli altri, di non arrenderci al primo ostacolo, di essere sinceri e insistenti se necessario, anche e soprattutto con te. Dacci pazienza per resistere contro il male del mondo. Dacci di conoscerlo senza farci distrarre dalla propaganda intorno a noi. Dacci di discernere tra chi lo compie e chi lo subisce. Dacci di fermarci per non diventare carnefici in nome tuo o di chi ti vorrebbe rappresentare. Dacci di rimanere umani tra gli umani e mai macchine cieche e sorde l'umanità altrui. E se la nostra resistenza ci sembrerà vana, dacci di ricordare che la tua gloria e la tua potenza di trasformazione vanno oltre il nostro orizzonte. Ti preghiamo insieme con le parole che tuo figlio ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in cielo come è fatta in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi i nostri debitori. E non c'esporre la tensazione ma liberaci dal male. Tu è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. E ora andate in pace per amare e per servire. Per annunciare il regno di Dio a coloro che non hanno e a coloro che hanno troppo. Lavorate per la pace, quella che viene solo con la giustizia. Non trattenete la parola, fatevene attraversare. Annunciatela con coraggio e con generosità. Il Signore guidi il vostro parlare e il vostro agire, ora e sempre. Amen. Avete ascoltato il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è stata curata dal pastore Stefano D'Amore.